Quando sono nella Taranta La musica di Eugenio Bennato, i libri di Pino Aprile, un solo filo conduttore, la questione meridionale Di questo si è parlato ieri sera la fabbrica dei sapori di Battipaia di Cosimo Mogavero Un esempio di quel sud operoso, intraprendente e mai d'uomo Ascoltare la musica di Eugenio Bennato è come calarsi nella propria storia Conoscere le proprie radici, vivere la propria terra Di quella terra Bennato ci ha parlato ieri sera Del sud depredato dai piemontesi, dei briganti e delle brigantesse Di quelle zavorre che la storia ha consegnato al Mezzogiorno d'Italia Ma è più terrori? È invece il titolo dell'ultimo libro di Pino Aprile Lo scrittore pugliese lo ha presentato ieri sera Affermando la sua tesi Grazie al web, alla rete Non ci sono più confini e dunque non c'è più neppure un sud Non potranno chiamarci più terrori Perché dal sud, stando a casa nostra Potremo essere come siamo In contatto con tutto il mondo Fare impresa come accade Sviluppare le nostre idee Che spesso sono quelle vincenti La musica, la scrittura, insomma il linguaggio per arrivare dove la storia non ci ha portati Eugenio Bennato e Pino Aprile Per me è stato un percorso parallelo Sia scoprire dei tesori nascosti nell'antica cultura del sud Che oggi rivivono come fatto contemporaneo E nello stesso tempo scoprire dei personaggi della storia Anche quelli appunto tutti da scoprire Io sono sempre felice di incontrare Pino Perché senza comunicare a distanza, telematicamente Empaticamente Noi abbiamo raggiunto gli stessi risultati Anzi, anche se non so bene che cosa ha in mente lui in questo momento Però fino a questo punto andiamo di pari passo Ed è bello che uno storico, un giornalista vada di pari passo con un musicista Questo è un segnale forte I terroni, come ci hanno sempre definiti, insomma Non sono più tali perché i confini del mondo si sono estesi? Ma sì perché usciamo da una civiltà, quella industriale Che ha bisogno di valute differenti, di frontiere, di stati, di popoli, di lingue Che si confrontano e si affrontano, addirittura si distruggono l'una con l'altra Ed entriamo in una nuova civiltà che è quella informatica Cioè del web del punto zero In cui non ci sono frontiere, non ci sono dimensioni E tutti si è alla pari Però è significativo che a questo ci si arrivi anche Con un percorso, come diceva prima Eugenio Che è cominciato tanti anni fa Per tanti, ognuno con le proprie gambe, con i propri mezzi Chi con la musica, chi con la parola, chi con altre forme di ricerche Ma accomunati dalla stessa sensibilità che poi ha portato ad un incontro Cioè quando con Eugenio, poi alla fine questo incontro è diventato addirittura Un lavoro teatrale insieme che si chiama Profondo Sud Ci siamo resi conto, e lui lo dice bene all'inizio dello spettacolo Che ignorandoci ci siamo trovati nello stesso punto E da quel punto continuiamo a camminare assieme Il fianco, ninca nanca, quando campa Sarà una spina nel cuore Ninca nanca, quando muore Ninca nanco deve morire Perché se campa potesse parlare E se parlasse potesse dire qualcosa di meridione